è qualche lezione che non vi mando solo il titolo della lezione, la foto, il programma ma anche un po' di spiegazione, qualche riga vi scrivo e dovreste aver notato una frase che è per cosa dovrei ricordarmi di te come combattente una caratteristica che vi contraddistingue vorrei che voi la cercaste non pensando quale vi piacerebbe come ambizione voi potreste dire sì ma mi gratifica anche una cosa bella sì anche a me però magari vedetevi da qui a 5 anni che pure chi parte da zero una ventina di incontri l'avrà fatti magari per 6 mesi non fate un match ma poi se iniziate l'avrete fatti sicuro che la metà li vorreste perdere perché vi siete fissati una tecnica, un comportamento, una strategia, una tattica che non è quella che calza a pennello su di voi ma siamo proprio sicuri che una vittoria con tecniche normali valga di meno di una vittoria con i calci volanti e tecniche segrete crediamo veramente che ci siano dei colpi che sono facili per tutti o difficili per tutti cioè veramente come viene comodo di combattere a te sarà proprio il metodo migliore con cui combattere tu capiamo che non può essere così che siamo persone diverse allora dobbiamo andare a cercare quello che è la migliore cosa per noi e sei sicuro che quello che ti viene naturale e comodo o lo senti tu o è proprio la soluzione migliore o è quella che te è più comoda perché sapete che molti principianti non li fanno a tenere la guardia su perché certo i pugni li prendono piano se principiante ma io mi trovo bene così certo, nessuno ti mena, ti trovi comodo devo scegliere cosa è meglio per me e quel cosa è meglio per me forse nemmeno è la cosa più comoda però è la cosa che mi farà vincere cioè il modo migliore di utilizzare il mio corpo le mie doti atletiche e il mio carattere vuoi imparare a combattere e vincere nel sandà? sono Danilo Capuzzi il presidente della famosa Otsuka Club ho vissuto per 26 anni dentro la mia palestra perché volevo diventare il migliore nella mia disciplina sono conosciuto infatti per aver vinto 106 incontri e per essere quindi l'atleta più titolato in Italia nel sandà a contatto pieno vuoi sapere come ho fatto? unisciti ai miei studenti fai una lezione gratis con me datti questa opportunità clicca il link che trovi in descrizione grazie a tutti